Oggi vi faccio vedere un altro custom di un coltellinaio americano, Brian Johnson. Il modello è stato concordato assieme, è una modifica dell'ST1 che fa lui, modificato leggermente per una mia comodità. Il fodero è in pelle, molto bello, resistente, TS1 e un coltello da campo in acciaio O1. Questo ha una particolare doppia affilatura della lama. La parte bassa ottima per tagliare cordame o per lavori più di finezza e la parte alta ottima per lavori pesanti. Dietro lui ha fatto un firework che arriva fino a quasi il fondo del manico. La lama è spessa 6,5 mm e le guancette sono in G10 con spaziatori bianchi, modello full tang. Ho fatto modificare leggermente il manico per evitare che nella presa arretrata potesse dare fastidio alle dita. L'impugnatura è ergonomica, si impugna abbastanza bene. Questo è un falso controfilo. Questo è simile a un altro modello che io avevo, con lama però da 7 pollici. Questo qui invece ha la lama da 8 pollici, è leggermente più grande e ha questo piccolo scanalatura tracker. Brian Johnson, TS-1 Ivy Survivor.